quella che vedete alle mie spalle non è soltanto una distesa di mais ma qui inizia il parco del trebbia un'area incontaminata una delle poche che rimane in pianura padana eppure grazie a qualche industriale i soliti qui doveva sorgere un impianto inquinante a biomasse che poi inquina come tante altre materie ebbene il comitato ha detto no i cittadini si sono ribellati ed ora al sindaco fa retromarcia dicendo beh rivediamo totalmente il progetto i cittadini di borgo trebbia verso la vittoria finale la frazione di piacenza infatti ribadisce il proprio no alla realizzazione di una centrale a biogas e il comitato annunciando un ricorso al tar contro l'impianto ottiene la sospensione del liter autorizzativo l'impianto essendo alimentato anche con liquame animale si rifornirà di questo materiale da aziende di rivergaro e calendasco si creerà pertanto un enorme passaggio di camion con l'aumento esponenziale di co2 nell'aria senza contare inoltre che l'impianto sorgerà in una zona abitata e dove è presente oltre a scuole ed abitazioni l'ospedale cittadino la cosa a cui teniamo molto è la salute dei cittadini perché questo impianto verrebbe costruito a due passi dalle abitazioni e nessuno ha tenuto conto a parte la popolazione che nella zona c'è un asilo nido una scuola materna una scuola elementare c'è l'asl e c'è un ospedale per cui sono cose che comunque bisognava tener conto ecco il sindaco di piacenza paolo dosi ha però annunciato ai nostri microfoni che l'iter per la costruzione dell'impianto è stato sospeso il primo cittadino ha specificato le ragioni di questo dietro front dovuto soprattutto alla costituzione di un comitato contrario e all'esposto presentato dai cittadini c'è stata probabilmente una carenza come dire di lettura politica è su questo che adesso vorrei cercare di recuperare seppur a posteriori un funzione di controllo che probabilmente poteva essere esercitata meglio in precedenza e me ne assumo la responsabilità però ricordo la procedura normativa prevede quello che in realtà è stato fatto quindi ho ritenuto che se l'esposto e la probabile difida che dovrebbe arrivare da parte del comitato avranno contenuti concreti che verranno ritenuti degni di approfondimento come mi pare di capire che sia allora noi provvederemo in questa fase alla sospensione del provvedimento in una fase successiva a vedere se ci sono gli estremi per un'eventuale revoca parole confortanti quelli del sindaco dosi per i cittadini di borgo trebbia che per ora registrano con cauto ottimismo la presa di posizione proveniente da palazzo mercanti ci fa piacere che il sindaco abbia pensato ad un'eventuale revoca e al momento a quanto pare anche alla sospensione per quanto riguarda un nostro esposto per procedere alla cosa dobbiamo chiedere al nostro legale chiediamo con Cassino di revocare lui stesso l'autorizzazione grazie a tutti